Allora noi abbiamo vissuto dei bei momenti in quel di Soveria, poi tempo fa il dottore Paolo è venuta l'idea di fare questi incontri, ci siamo sentiti per caso una sera, mi ha detto che ne pensi, così è una cosa ottima e quindi abbiamo organizzato questo, ma più che per come dire ricordare i vecchi tempi, proprio per stare insieme per vedere ognuno di noi come stava e così via, sicuramente è un bel momento perché ci ricorda intanto gli anni vissuti veramente belli, anche facendo delle belle cose non tutti sono stati d'accordo, però avevamo creato un ospedale che non eravamo colleghi ma eravamo amici, l'ospedale era una famiglia, non era il discorso collega qua, collega là, io ricordo un piccolo episodio, stavamo facendo un intervento, mi ricordo che forse un po' complicato, a un certo punto arriva sulla porta della sala dell'operatorio, il dottor Tevesco, mi fa che io sono qua, io per lì ho continuato, poi ho saputo che aveva saputo che c'era qualche problema e lui non l'ho dovuto chiamare, mi è venuto direttamente, bei ricordi insomma. Stasera ci vediamo qua a passare una serata per ricordarci della vita passata. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!